Scade oggi alle 19 il termine per la presentazione delle candidature alle primarie del centro-sinistra. Una consultazione che sta finendo per spaccare anziché unire la coalizione che dovrebbe aspirare al governo della regione e al posto del centro-destra. La richiesta avanzata dal centro-democratico, IDV, Selle e UPC di rinviare tutto al 2 settembre è stata respinta al mittente dal PD e pertanto chi non riuscirà a formalizzare la sua candidatura alle primarie entro oggi sarà fuori dalla competizione. Stamattina hanno provveduto a presentare la propria domanda Roberto De Rio, presidente della provincia di Nure dell'Unione Provincia Sarde, esponente del PD e il socialista Simone Azzeni, segretario provinciale di Cagliari. PSI ieri aveva abbandonato il fronte dei ribelli e aveva annunciato di voler proporre un proprio esponente. Abbiamo lavorato molto in queste ultime settimane per presentarci con un nostro candidato ed eravamo pronti, ha fermato Azzeni. Quindi non c'era motivo di aspettare ancora anche se consideriamo legittime le richieste degli altri partiti, anzi invitiamo il PD a tenerne conto. Mi auguro che queste primarie e concludazioni non siano un terreno di sfida tra Curva Nord e Curva Sud, ma che diventino l'occasione per un confronto programmatico, valido o intenso. Nelle prossime ore si attende la conferma della discesa in campo di Francesca Barracciu, europarlamentare di Gianfranco Ganao, sindaco di Sassari e presidente del Consiglio per le Autonomie Locali. Si tratta di esponenti del PD. Non sono escluse altre candidature a sorpresa da parte del Partito Democratico. Rimane il nodo dei rapporti con gli alleati perché per vincere occorre il supporto di tutti. Selle, IDV, PC e Centro Democratico chiedono di poter presentare le candidature fino alla data limite del 2 settembre, quella che in origine era l'ultima utile per presentare le 5.500 firme che devono accompagnare il candidato. Bisognerà vedere se in queste settimane prevarranno i falchi oppure si cercherà una mediazione. Grazie.